Quali sono stati i migliori tool per la produttività, per il lavoro, ma anche per il nostro benessere del 2022? Oggi vi faccio vedere la fonte più attendibile da questo punto di vista, cioè Product Hunt. Sono da pochissimo uscite le loro classifiche ufficiali proprio per il 2022, con voti di migliaia e migliaia di persone. E andiamo un po' a vedere quelli che secondo me sono i prodotti più validi. Vi do a dare qualche consiglio su quale magari provare o quale no. E chi lo sa, magari anch'io scoprirò qualcosa di nuovo. Quindi cominciamo subito. Allora, eccoci qua, questo è Product Hunt e come vedete qua c'è subito la lista di Product of the Year. Quindi ChatGPT, chiaramente come era facile prevedere, è stato il tool che ha vinto Product of the Year del 2022. Immagino che non ci sia bisogno di parlarne, già tutti lo conoscete, ho fatto anche tanti, troppi video in merito. Ma molto interessante è Notion AI. Notion AI è stata una release di Notion che fondamentalmente ha introdotto capacità di AI all'interno di Notion stesso. Per chi non dovesse aver provato questa funzionalità, fondamentalmente è una specie di GPT-3 all'interno di Notion stesso. Voi potete dire che avete bisogno di aiuto a scrivere un qualcosa all'interno di Notion e la funzionalità di AI vi aiuterà a completare il testo al posto vostro. Quindi sicuramente molto interessante. Ne approfitto per dire che questi award di Product Hunt non sono necessariamente prodotti completamente nuovi, ma a volte si tratta semplicemente di prodotti che magari hanno rilasciato una nuova versione o hanno rilasciato nuove funzionalità. Anche questo può qualificare il prodotto come parte di questa votazione. Quindi Notion AI è uno di questi esempi. Non è un nuovo Notion, ma semplicemente una funzionalità nuova che è piaciuta molto alle persone. Dalli I2, un altro prodotto di OpenAI, che anche qua immagino conoscerete, quello che vi permette di creare immagini tramite intelligenza artificiale. E BeReal, BeReal, social che è andato virale. Mi sembra che stia già perdendo un po' di spinta in alcuni sensi, però sicuramente può essere interessante da approfondire. Io lo sto provando, l'ho usato, mi sembra carino. Fondamentalmente ogni giorno a un orario diverso ricevete una notifica, mettete la foto. Solo se mettete la foto potete vedere le foto dei vostri amici, la foto non potete modificarla, in teoria non potete rifare la foto, quindi anche se venite male dovete postarla. L'idea è tutta quella di essere i più autentici possibili. Passiamo alla classifica di Productivity, ma anzi prima vi faccio vedere una cosa carina, un po' di self-marketta, perché il prodotto dell'anno 2021 è software, l'azienda per cui lavoro io. Siamo molto orgogliosi di questa vittoria dell'anno passato e ci fa piacere vedere che adesso siamo accanto a ChatGPT come prodotto dell'anno di Productant. Nel 2020 il prodotto dell'anno era stato Clubhouse, che invece sicuramente ha un po' più di problemi, mettiamola così. Quindi speriamo di finire più come il primo e non come questo. Rom Research è stato il secondo, ok? E anche A, era tra i runner-up dell'anno passato. Nel 2019 il prodotto sono state le AirPods Pro, Clockwise, molto carino per gestire il nostro calendario, e Disney Plus, ok? Quindi vedete che c'è la verità di tutto. Nel 2018 già TikTok aveva vinto, Nintendo Labo e Pioneer. Bene, torniamo al 2022. Per la produttività, allora Spark, Spark è una client email famosissimo, che specialmente per utenti Mac io consiglio abbastanza, se non sbaglio è gratuito. Sì, mi sembra che sia ancora gratuito, giusto? Forse ha qualche funzionalità premium. E adesso hanno lanciato tutta una nuova UI, purtroppo non sono più utente Mac, quindi non vi so dire. Una nuova funzionalità di Obsidian, che fondamentalmente diventa una specie di quaderno infinito, mettiamola così. Una specie di mirror board, in cui all'interno del vostro account Obsidian potete creare molto di più che non solo testo. Quindi qualcosa che magari prima era possibile, sì, ma solamente con determinate estensioni, non attivamente all'interno di Obsidian. Poi non sono un utente Obsidian, quindi non vi so dire bene, ma molto interessante. Una CRM e poi Amy. Amy è un tool particolare, nel senso che già da anni si parla di questa applicazione per gestire i propri task, il proprio calendario, ma è sempre stato in una specie di soft launch. Lo fanno molto queste app di produttività, non escono per tanto tempo e continuano un po' a creare hype. Io, se non sbaglio, ancora non ho ricevuto accesso, nonostante mi sia segnato nella quota un annetto e mezzo fa. Ma vediamo che succede. Non ho ancora avuto modo di provarlo, ma sicuramente c'è tanto hype e sembra interessante. La categoria AI, chiaramente vinta da ChatGPT, ma in questo caso c'è anche Mid Journey, che è una specie di Dali-I, ma da un'azienda che non è OpenAI. Design tool, quindi c'è Canva Visual WorkSuite. Canva fondamentalmente adesso funziona molto meglio per le aziende. Questa WorkSuite vi permette di gestire il lavoro con i vostri colleghi a livello di team in maniera molto più precisa, interessante. Quindi penso si rifaccia questo loro lancio. Framer Site non conosco, ma mi sembra una specie di Figma. Sarebbe interessante capire esattamente cosa fa di diverso. Però questa è una versione nuova del loro tool. Xnapper, ok, per screenshot. E Slime Beta. Questo è una specie di Figma, però 3D, mi sembra di capire. Anzi, ancora meglio, forse una specie di tool di sviluppo 3D, però collaborativo. Quindi hanno preso il successo di Figma nella UI design, lo stanno applicando al design di oggetti 3D. Mi sembra di capire. Come SaaS, ok. Lead Delta per gestire contatti su LinkedIn, CRM di LinkedIn. Quindi potenzialmente e principalmente immagino per team di sales o diciamo persone che usano fortemente LinkedIn per gestire messaggi e connessioni. Potrebbe essere carino e interessante per team che fanno parecchio affidamento su LinkedIn. Poi Session 2.0 che si ripropone di migliorare estremamente le videochiamate. Ok, questo è un tool, per esempio, che potrei provare, sembra interessante, che mette tutta una serie di tool insieme per fare lo scheduling delle chiamate, per fare uno screen share un po' più interattivo. Ok, quindi questo è da provare, lo lascio nelle schede aperte per dare un'occhiata. Poi Bardeen. Bardeen è un prodotto di cui ho sentito parlare. I miei founder sono amici con i founder di Bardeen. Ed è una specie di Zapier Make, che però a livello grafico sicuramente è molto più interessante. E penso, o sembra, avere un approccio molto più friendly a tutto quello che è il mondo delle automazioni. Anche questo per me diventerà, diciamo, da seguire. Lo lascio nelle schede aperte. Arcade 2.0. Questo sta diventando un po' una sorta di studiamo insieme. Questo mi sembra un modo interessante per testare i nostri MVP, se vogliamo fare delle demo per potenziali utenti, vogliamo fargli vedere come funziona qualcosa, anche se effettivamente ancora non l'abbiamo creato. Vedo che hanno un po' di endorsement carini, tipo da Lenny, insomma un po' di gente interessante, quindi forse anche questo rimane. Best Design Amy. Amy, come dicevo prima, quello che sta sempre in close beta, puntano tantissimo sul design. Kron, che è una skin per il vostro calendario, molto molto interessante. Io l'ho usato, poi ho smesso di usarlo perché il costo, secondo me, non giustificava, non era giustificato dalle feature che mi davano. Io adoravo Woven, che però poi è stato comprato da Notion, se non sbaglio, e quindi ha smesso di funzionare. Sto cercando un sostituto da allora, però per adesso mi accontento di Google Calendar, che comunque fa il suo. Handel James Blake Winddown. Ok, questa mi sembra una specie di app per meditazione. Questo quindi è legato ai suoni. Ok, per i suoni devo dire c'è un'app in particolare che mi è sembrata interessante. Vediamo se c'è qui, Centered. Non so se si è qualificata, diciamo, come app dell'anno, non l'ho vista. Però è carina, ci sono vari suoni e vari personaggi all'interno che fondamentalmente vi si assicurano che voi stiate lavorando. Il tipo di musica che viene messa in sottofondo, diciamo che è una di quelle che dovrebbe aiutarvi a concentrarvi, a migliorare il focus. Carina come concetto, come idea. È un po' quello che fanno i vari streamer di Study With Me, tipo Study Time, Giulia e quel concetto là, però a livello di applicazione, quindi sono sempre disponibili, sempre online. E hanno un po' di integrazioni carine con Slack, con app di ToDo. Ogni tanto l'ho usato, è interessante. Dateci un'occhiata se volete. Oppure provate questi streamer che fanno queste stream su Twitch, del tipo lavora con me. Anche quello può essere un'alternativa buona e un po' più personale, ecco. Sigma OS è un browser che non conosco molto bene, che però sembra concentrato molto sul discorso del DVD, tipi di lavori. Ci sono già varie applicazioni che fanno cose di questo tipo. Quella che mi viene in mente per prima è Shift. Shift già da qualche anno ha queste funzionalità, tipo browser diviso per attività che state facendo. Mi sembrava molto più interessante anni fa, però magari adesso potrei darci un'altra prova. Per ora mi sto trovando abbastanza bene con i browser di Google Chrome separati in base all'utente, quindi utente personale, utente di lavoro e poi all'interno della sessione creando gruppi tra le varie finestre. Quindi forse queste soluzioni in realtà già mi bastano, però questo potrebbe essere carino da andare a guardare. Bootstrapped e crowdfunded, ok. Quindi, scusate qua, purtroppo tutte le gif vanno super veloci. Reflect mi sembra un po' una specie di Obsidian. Sì, mi sembra una specie di Obsidian semplificato, ecco, mettiamolo così. Questo qui potrebbe essere carino, Rootl, ah ok, questo qui sembra un po', io ho provato un tool simile che si chiama markup.io e fondamentalmente l'idea è, voi siete magari un copywriter, siete un marketer, dovete dare un feedback su un sito e potete scrivere sul sito come se fosse interattivo, diciamo, per lasciare feedback ai vostri colleghi su cosa cambiare, cosa migliorare, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente è un tool utile. Poi, motion graphic for everyone on the web, questo anche è un tool molto interessante. Non so quanto sia la potenzialità e a livello di tipo di computer che dovete avere o a livello di connessione, però fondamentalmente qua dice sì, un mix di After Effects e Canva. Sicuramente dovesse funzionare bene sarebbe super interessante, anche perché la parte di animazione è quella forse più difficile da imparare. È molto più facile fare video editing normale, no? Quindi Premiere Pro è molto più semplice di After Effects se si riuscisse a rendere più digeribile questo tipo di attività e se si potesse fare in cloud senza la necessità di potenza di computer che è richiesta adesso sicuramente sarebbe un bel passo avanti. Quindi anche questo rimane come tab aperta. Color picker per OS, ok, mi sembra niente di che. Daily Dev, Programming News Ranked by Developers for Developers, ok, questo è semplicemente un sito di notizie, B-Real mi avevo parlato. Polywork, Polywork l'ho usato, sono nella loro beta dalla prima settimana in cui hanno lanciato praticamente. Concetto interessante, si basa sull'idea che il mondo del lavoro stia cambiando, il CV non sia più una cosa orizzontale, diciamo, per cui tu hai fatto questo, poi hai fatto questo, poi hai fatto questo, ma ci sono tante attività tutte insieme che uno fa, tanti progetti, e quindi l'idea di Polywork è quella di darvi la possibilità di esprimere in maniera più completa chi siete, cosa fate nel mondo lavorativo. È carino, io personalmente ho smesso di usarlo, è stata una cosa interessante vedere come funziona, ma non l'ho trovato utile, forse più utile per chi è freelancer o sta cercando comunque in continuazione ai nuovi clienti o co-founder o diciamo persone con cui interagire, io sono stato un po' solitario in questo periodo. Early build landing page builder, ok, insomma non mi sembra niente di eccezionale, però vediamo. Quindi landing page builder in particolare per MVP, quindi mi sembra una nicchia un po' piccolina, ok, quindi è una specie di mix tra Unbounce e forse Figma per testare idee. Allora June 2.0, June 2.0 l'ho usato se non sbaglio e è un prodotto che vi consente di avere le analitiche del vostro sito in maniera più rapida e in maniera chiara. Sì, diciamo, l'ho studiato perché per un periodo ho pensato di voler fare qualcosa in questo ambito, ma poi ho lasciato perdere. Sicuramente mi sembra un progetto valido, non so quanto più valido rispetto a cose tipo Mixpanel o Amplitude, e tutti e due questi tool hanno dei piani eccezionali per le startup dove vi danno veramente 20.000 euro di crediti gratuiti, prima forse anche 50.000, quindi non lo so, ci penserei un po'. Io tra l'altro vi ricordo che i prodotti di cui ho link affiliati o prodotti che mi sono piaciuti ve li lascio in descrizione, se volete provarli li trovate lì. Control F e li cercate. Equals non lo conosco, però interessante, quindi una serie di, diciamo, Spreadsheet però con connessione alle data warehouse dirette, ok? Immagino che sia una nicchia interessante, magari questo anche da provare, anche se adesso non mi serve, quindi un'altra volta. Google Trend Supercharged, ok? Quindi Google Trend, per chi non lo conoscesse, è quel sito che vi fa vedere l'andamento delle ricerche su Google, o comunque in generale l'andamento di ricerche su determinati topic, questo tool fondamentalmente mette in maniera, diciamo, dà più informazioni rispetto a Google Trend, quindi in realtà è una specie di SEO tool che però si è marketizzato in un modo diverso, si è dato una skin diversa per attirare persone diverse, ci sta, può essere una cosa carina. E-commerce, e-commerce, ah oh che bello, c'è un'alternativa open source a Shopify, chiamata Medusa, non ne ho mai sentito parlare, quindi sicuramente interessante, non so se è un headless CMS, quindi una specie di, anche qui, approccio no code all'e-commerce, però non bisogna pagare perché appunto è open source, forse hanno anche dei piani premium, però tendenzialmente dovrebbe essere gratuito e tutti quanti ci possono un po' iterare sopra, da tenere d'occhio per chi magari vuole avere più controllo sull'e-commerce che sta costruendo e ha esperienza come developer, questo è un po' quello che mi viene in mente. Ah, il SEO per Etsy, ok, Etsy sicuramente è un mercato molto più piccolo rispetto ad Amazon, però su Amazon ci sono tantissimi tool che fanno analisi SEO, immagino che sia utile avere anche un po' di SEO per Etsy stessa. Jot Form Store Builder, che è un online store with no code, ok, quindi una, diciamo, versione no code anche qua di Shopify, magari è ancora più semplificato. Ah, la sezione Education, Refocus, questa è una piattaforma per, diciamo, di training per le persone fondamentalmente, il loro claim è che salvano lavori dai lavori che verrebbero persi per colpa dell'intelligenza artificiale, e se il loro pitch è impari nuove skill che sono utili nel nuovo, nell'attuale mercato del lavoro, molto carino da, sicuramente, da controllare. Poi, questo qui, Continuum, diciamo che non è esattamente il momento giusto, Get Paid in Crypto and NFT for Learning Courses from Expert. Fondamentalmente la loro idea sembra essere che tu segui dei corsi, impari delle nuove skill, e per seguire questi corsi vieni pagato in NFT o cripto. Ok, non capisco come facciano soldi con questa cosa, e se vogliono fare soldi, da approfondire. Start Your Teaching Building in Minutes, questo mi sembra un po' un competitor dei vari Teachable, e whatever, questa è una serie di collezioni di corsi. Poi, Fintech, Casual, Business Planning per Modern Teams, questo sembra interessante, forse potrebbe farmi comodo. Ah, puoi creare modelli finanziari in maniera semplice, connetterli ai tuoi dati e condividerli come dashboard. Molto carino, però ha solo 6 review e 1100 upvot, questo è un po' strano, da approfondire, però questo me lo segno e forse lo userò presto, perché Business Planning non è esattamente la cosa preferita da fare, almeno per me. Poi, Marketing e Sales, Radar, Not Just Another Scheduling App, vediamo un po', ce ne sono tantissime di scheduling app, quindi Radar, che cosa vuol dire? Ah, ok, quindi è una specie di scheduler per social media, va bene, ok, non mi sembra nulla di eccezionale, però ha vinto, quindi sarà fatto bene. CleanShot, questo è per registrare schermo o screenshot del Mac, anche questo è un tool che è molto famoso, però avevano rilasciato una nuova versione. Optimonc 3.0, una specie di tool che vi permette di modificare l'esperienza utente in maniera dinamica in base all'utente che sta visitando il sito. Carino, ce ne sono vari, che conosco, questo non lo conoscevo, però sicuramente può essere utile per ottimizzare le conversioni. Mobile App, alcune di queste le abbiamo già viste. Readwise, tool molto carino, che vi permette di inviare snapshot di quello che avete letto o state leggendo al vostro Kindle, oppure in un posto, diciamo, centralizzato, poi da controllare sul vostro computer dove volete. Questo anche è carino, literal, ok? Quindi è una specie di Goodreads, però con un po' di informazioni differenti, sembra un po' più carino da vedere, un po' più social, ok? Questo anche potrebbe essere interessante da controllare. Poi, Most Innovative Use of Technology. Questo Rewind ne ho sentito parlare. È andato abbastanza virale quando se ne è cominciato a parlare e fondamentalmente l'idea è che vi permette di ricercare qualsiasi cosa voi abbiate visto, sentito o detto all'interno del vostro Mac. È una specie di time machine, però con i superpoteri. È da provare. Come dicevo prima, purtroppo non sono più utente Mac, ma ho sentito persone che ne hanno parlato e erano molto interessate. NoCode, ok. Su NoCode noi siamo arrivati numero due, come runner-up. Ha vinto Make. Non so Make in realtà quest'anno cosa abbia rilasciato. Non so esattamente se... Forse non era prima su Product Hunt e si sono messi quest'anno. Make è uno dei tool di automazione più famosi al mondo, dopo Zapier probabilmente, ma che ha molte più funzionalità di Zapier, almeno secondo me, diciamo, più interessante, più potenziale. Zapier è un po' più facile da usare, forse ha ancora un po' più di connessioni. Però Make assolutamente vale la pena se volete automatizzare qualsiasi cosa, dateci in occhiata. Molto molto figo. Flutter Flow. Allora, Flutter Flow vi permette di creare applicazioni mobile in particolare. Anche questa è un'app di NoCode carina, abbastanza utile, soprattutto appunto se lavorate in mobile. A quanto pare adesso stanno anche lanciando la versione app e, come vedete, è super customizzabile lato design, quindi ha un approccio un po' simile Bubble, volendo. Per chi volesse capirne di più, c'è il mio video sul NoCode. E ci siamo anche noi come runner-up in ambito NoCode. Questo non è software di per sé come prodotto, che l'anno scorso ha vinto appunto un product of the year, ma questo è software mobile. Abbiamo lanciato una funzionalità che permette a chiunque di trasformare una web app in una PWA, quindi Progressive Web App, vediamo se lo fanno vedere, che fondamentalmente manda direttamente l'applicazione sul telefono dei vostri utenti se lo vogliono installare. Quindi stanno vedendo il vostro sito, possono decidere di scaricare questo sito come applicazione sul telefono senza passare dal Play Store, dall'App Store e senza pagare le fee che ne conseguono. Privacy Focus, Spy Buster, Unmaska Spy e Save Your Data, che questo sembra carino. Cookie Yes, che se non sbaglio è uno di quei tool che vi permette di, diciamo, semplificare la gestione dei cookie, esatto. Quindi questo è, se voi avete un sito, dovete gestire la parte cookie, che a volte può essere complicata, fastidiosa, questo è un tool che vi permette di farlo in maniera più semplice e veloce. Molto molto figo è Deal. Deal è un'azienda top, veramente, è uno delle aziende tra l'altro che sta crescendo di più in assoluto al mondo. È passata una valutazione di 20 miliardi di recente, mi sembra, in pochissimo tempo. Io la uso perché la usa la mia azienda e veramente, veramente eccezionale. Se volete assumere persone dall'altra parte del mondo o in un paese accanto, ma non volete fare il setup della vostra azienda in un altro paese, cosa che diventa sempre molto più comune oggi, special post pandemia, Deal è una soluzione che posso raccomandare. Chiaramente vi fanno pagare una fee, ma ho sentito ottime, ottime cose su di loro. Un'altra azienda che fa questo, tra l'altro è portoghese, qua vicino a me, che si chiama Remote, Remote.com se non sbaglio. Ah, Chris Messina, Chris Messina lo conosco, l'ho conosciuto a un evento ed è l'inventore dell'hashtag a Twitter, se non sbaglio ha lavorato a Twitter anche. Adesso lavora a Republic come azienda e è interessante, è carino vedere che è tra i top hunter di Product Hunt. Maker of the Year, qua ci sono un paio di nomi, ma ecco siamo arrivati alla fine della lista. Questo era un video per analizzare un po' la lista di tool che ha vinto Product of the Year 2022. Ho visto la lista e ho detto, sai che c'è, facciamo un video al volo, vediamo come va. Non è un video super elaborato, ma spero che vi abbia fatto piacere vedere insieme quelli che sono stati tool apprezzati dalla community Product Hunt quest'anno e magari avete trovato qualche spunto interessante. Vi ricordo che in fondo, in descrizione, ci sono i link ai vari tool. Se sono tool con cui ho la possibilità di avere un link affiliato, probabilmente sarò link affiliato, così per chiarezza. E niente, noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!